buongiorno allora il nuovo blog ma ormai lo sapete già perché dal titolo ovviamente inutile che lo dico sempre comunque volevo farvi vedere tre prodotti che ho comprato a lidl ho comprato tre prodotti infatti lo vediamo insieme vi dico anche i prezzi perché più o meno me li ricordo l'ho presi oggi oggi è giovedì come sapete i blog li faccio sparsi in senso che non sono più blog che ne so registro oggi che giovedì lo faccio registrare fino a stasera e poi ve lo pubblico no adesso sono più comoda a registrare a pezzi in senso che questa clip la faccio giovedì la prossima clip la faccio faccio sabato eccetera comunque a parte questo che adesso vi faccio vedere i prodotti i prodotti che ho preso volevo dirvi buona pasqua perché io sto registrando cioè in senso io registro sabato domenica che pasqua e questo video voi lo vedete martedì ma per me se io l'ho registrato lo sto registrando sabato domenica il giorno di pasqua per cui in anticipo c'è in anticipo per me ma in ritardo per voi vi farò vedere come trascureremo almeno la pasqua comunque vi faccio vedere i prodotti che ho preso allora il primo è questo qua allora dato che c'erano le promozioni alla lidl ho preso questo di frank provo che quello no questo è il balsamo balsamo senza silicone con burro di karité li secchi questi qua allora questo l'ho pagato 3 euro e 49 poi ne ho preso un altro dato che ho detto cavolo invece di 6 euro di questi qua costano 6 euro perché sono 750 ml e costano 6 euro dato che erano in promozione a 3 ore 50 l'ho voluti prendere queste qui invece l'ho preso con olio di io 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 ba qualcosa del genere per capelli rovinati e fragili senza silicone una volta l'ho preso mi sono trovata bene e loro ho detto quasi quasi provo tutte e due che sono diversi sono diversi e vedo perché l'odore questo qua abbastanza così così invece l'altro questo è più buono perché sa sa veramente di burro questo qua più buono comunque ho preso questi due 6 euro e qualcosa 6 euro quasi 7 euro due calcolate il risparmio perché solo uno a costa 6 euro per cui invece di pagare 6 euro l'uno o l'ho presi tutte e due l'ho pagati 6 euro poi ho preso queste salviettina adesso non so dove ok queste salviettini della sien allora in teoria non mi trovo bene col marco della sien di salviettine ma dato che avevo bisogno di salviettine ed ero senza perché se no io non riesco a struccarmi specialmente se faccio trucchi pesanti ad esempio questo non riesco a struccarmi se non ci sono le salviettine per cui ho dovuto per forza comprare questi qua perché c'erano solo questi di marca e ho preso questi questi qua 99 centesimi calcolate che all'emd no all'idl costa costa pochissimo poi ho preso l'insalata per i conigli le carote per i conigli e altre cose che non mi ricordo ma non ve le ho fatte vedere cioè non ve le faccio vedere perché giustamente l'ho già messi nel frigor l'ho utilizzate che non mi ricordo dove le ho messi per cui vi faccio vedere solo questi prodotti qua e poi ho preso questo dato che mi piacevo ho detto no lo voglio io sono poi sono una questa è una maglietta lunga a maniche corte di snoopy e dato che era carino con scritto like no è troppo carino ho preso una l perché le zelle non c'era la l è una 46 barra 48 adesso lo apriamo spero che mi sta spero che mi va perché se no lo devo regalare a mia cugina o a qualcuno che che può metterlo perché ho preso una l ma ho detto sarà largo perché di solito io le magliette mi stanno larghe c'è specialmente adesso che ho perso un bel po di chili sono diventata un po diciamo magra sembra di no del video ma vi assicuro che ho perso tanti chili allora adesso le magliette mi stanno larghe tra magliette leggings sono tutte larghe non non mi sta più le izelle mi sta una l m inizio a essere anche su una m e per adesso sto iniziando a prendere una l per cui ho preso una l è fatto così lo apriamo insieme così vediamo allora in teoria la maglietta è larghissima per cui se voi notate c'è non ci sta neanche nella schermata in poche parole non è una maglietta è un vestito lungo c'è lunghissimo ma è bellissimo perché c'è scritto il like naps non so cosa vuol dire naps se lo sapete voi fatemelo sapere sotto nei commenti comunque naps like naps e dato che mi piaceva come era fatta anche questo colore perché giustamente non ce l'ho questo colore lo posso usare sia come pigiama perché tanto è maniche corte e secondo me va bene ovviamente adesso lo metto cioè lo provo vedo come se mi va se mi va lo vedete indossato su instagram ve lo farò vedere indossato quando pubblico questo video perché se faccio vedere indossa vabbè potrei fare così lo pubblico su instagram nelle storie e poi ve lo metto vi metto le foto su instagram così almeno le foto le potete vedere sono fisse e non si cancellano invece le storie si cancellano dopo 24 ore per cui calcolate che se voi vedete questo video martedì e io l'ho messo ad esempio venerdì non ovviamente quelli che mi seguono l'hanno già visto quelli che invece non mi seguono giustamente non possono vederlo perché ormai la storia già già andata però da vederlo è largo grandissimo enorme grandissimo secondo me è molto grande cioè altro che l ci voleva la m secondo me perché c'è guardate non ci sta neanche nella vabbè comunque niente queste sono le cose allora lo provo lo metto a lavare e poi vi farò le foto le metterò su instagram e poi in un altro blog vi farò vedere come come resta indossato almeno che ve lo farò vedere domenica non lo so adesso vediamo comunque niente questo quello che volevo far vedere quello che ho comprato e basta per cui vi ricordo che il blog continuerà sabato e domenica per cui in anticipo sempre buona pasqua anche se in ritardo per voi e niente allora i programmi di questo weekend come spero in teoria spero sabato finiremo di tirare via tutta la colla infatti vi aggiungo qualche clip che ho fatto in questa in queste settimane in questa settimana che sono stata a casa la mattina sono natali nella casa nuova io ho tirato via a mezza mezza pareti di colla da sola e mi sono fatta male le mani ma ve l'ho già fatto vedere nel video nell'altro blog e no un po un po le ferite sono passate ma credo che si vedono si vedono e niente per cui iniziamo a finire di tirare via la colla poi se riusciamo tutto quello che piastrelle eccetera che ci sono ancora li dobbiamo portare in discarica spero che riusciamo a portare tutto in discarica il giorno di sabato che tutto tutto sabato calcolate che dovremo lavorare tutta la mattina fino alla sera fino alle 7 di sera per cui in casa saremo più o meno tutto quel giorno lì almeno un giorno di lavoro in casa lo faremo poi invece domenica dato che è pasqua domenica faremo la grigliata in casa nuova in giardino vi ho fatto vedere che ho tagliato l'erba almeno non mi ricordo se vi ho messo il pezzettino del vlog che vi ho fatto l'altra volta o ve lo devo mettere adesso non so comunque quando monterò e vedrò l'altro video ve lo metterò se non l'ho messo su nell'altra clip e niente per cui questi sono praticamente i piani che faremo nei weekend per cui sarei sarò impegnata sabato domenica domenica tutto il giorno grigliata faremo la grigliata ma abbiamo già comprato la carne poi vabbè parte il che abbiamo sistemato il giardino e credo che poi apriremo le uova per cui poi il vlog continuerà fino a domenica quando vi farò vedere le uova anche di pasqua e niente questo è quello che succederà in questo vlog per cui mi raccomando guardatelo tutto credo che anche questo vlog durerà 30 minuti credo guardatelo tutto e non tagliate i pezzettini in senso che non è andato avanti con il dito mi raccomando perché se volete vederlo tutto va bene ma se dovete fare pezzettini per vedere solo le cose che vi interessano chiudete il video non guardatelo tutto cioè non guardatelo pezzettini perché preferisco che lo guardati tutto senza saltare ogni minimo dettaglio perché secondo me questo vlog sarà anche molto carino molto bello specialmente che mi avete chiesto che volete video dove mostro tante cose invece dei video che dove parlo parlo come adesso che sono 12 minuti smetto la smetto di parlare giuro e niente per cui niente ci vediamo sabato e la smetto di parlare perché 12 minuti di video puoi sentirmi con le orecchie c'è le cuffie montare il video sentirmi che parlo parlo dico mamma mia che stress è bello che vado avanti vado avanti e parlo per cui detto questo chiudo il discorso e ci vediamo sabato per cui per voi è subito per me è sabato cioè dopo due giorni solo che volevo riprendere quello che ho giocato ma come facevo a riprendere intanto che giocavo niente vino che dirà questa sera non facciamo fumare le fii sce Sì, adesso mi c'è ade Grazie a tutti. 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 Devo comprare un cavalletto decente, perché sennò... Grazie a tutti. Io poi la mattina ho anche lavorato e niente, abbiamo fatto tutto il giorno così. Però ovviamente non sono stata lì a riprendere tutto perché dopo un po' diventa noioso, per cui ogni tanto vi riprendo qualcosina. Se è più bello, riprendo di più, se è un po' diventa il pacchetto, finalmente, mi è arrivato il pacchetto finalmente di Amazon. Ho ordinato la nuova cover perché questa qui che ho è rotta, infatti è morta, dopo tanti anni mi ha abbandonato. E ne ho preso un'altra, però questa volta ho speso 38 euro con 5 euro di spedizione, cioè 5 euro di spedizione per avere la cover veloce, in poche parole. Perché se non mi arrivava lunedì. Apriamo ve la faccio vedere. Io con questa, cioè se non esiste questa, io non vivo, perché a parte che il mio telefono è andato anche a puntini puntini, perché la batteria è andata a fuori di tenere questa cover di batteria sempre attaccata al telefono. Comunque ho preso la... questa costava 33 euro, più 5 euro di spedizione, l'ho pagata sui 38-39 euro. Ho cambiato colore. Questa serve per quando sei in giro, ti aiuta che la batteria non si scarica del telefono. E dato che io sono una che uso sempre il telefono, specialmente per i social. Cioè, alla fine io uso solo questa, la carico e mi dura anche un giorno intero il telefono, per i video, per le foto, per tutto. E papapam! No vabbè, è bellissimo. Scommetto che non è carica. Cioè, l'ho presa rosa e sopra grigia. Spero che va bene per il mio telefono. Cioè, il colore va bene per il mio telefono. E c'ha l'aggancio. Adesso la devo caricare. Ah no! Devo tenere premuto. Ha due tacche. Come vedete, ha due tacche. Devo tenerla premuto per far sì che si accende. Cioè, è bellissima. Poi ve la farò vedere in un video quando registro con l'altro telefono. Comunque, finalmente, almeno così, quando non ho problemi che quando si scarica il telefono e devo registrare e fare qualcosa, almeno c'è questa che mi aiuta. Che è la batteria che si carica. Cioè, c'è anche quello col gancettino che esce e sta su. Solo che non mi piaceva. E allora, alla fine, ho preso questa qua. Cioè, è troppo bella. Ne valsa la pena. Perché poi queste qua durano anche tanto. Non sono coverte, durano poco. Per cui, questa la butto perché è rotta. E questa qua è quella nuova. Vabbè. Comunque, i programmi per domani che domenica sono altri. Alla fine andiamo dalla fidanzata di mio fratello, che facciamo la grigliata a casa sua. E se riesco riprendo qualcosina. Ovviamente vi metto anche le cose su Instagram, per cui chi ha già visto le storie sa. Ovviamente. E niente, domani che Pasqua, domenica, ovviamente tutto il giorno dalla fidanzata di mio fratello. A farla grigliata. Vuol dire che io fino a lunedì Pasquetta vloggo. Non so quanto durerà questo video. Spero non tanto. Incrociamo le dita. Detto questo, mangio. Vi faccio vedere cosa mangio. Ci vediamo dopo. Forse. O domani. Non lo so. Comunque tanto vloggo tutto il giorno. Cioè, tutti i due giorni. Sia stasera che i due giorni. Sperando che non sia un vlog lungo. Spero. Perché sennò c'è un problema. Che non so. Dovrò mettere quattro video alla fine in questa settimana. Se durerà tanto. Credo che... Adesso non so se... Aspettate. Il... Sì. Sennò mi tocca spostare il video che ho già registrato. E che devo ancora montare. Per giovedì. Per cui... Dovrò che può svolgere... Vabbè adesso vediamo un po' come... Se riesco. Sennò vedete due video separati. Cioè vlog martedì e giovedì. Se questo video dura tanto. Mamma mia. Si è sciolto tutto il trucco. Vabbè. Metto questo. Continuato a guardare il vlog. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.